Qual è l'assunzione degli impianti sportivi, dell'infrastruttura in vista dell'Università? Ecco, direi, negli ultimi anni è stato fatto molto, sia nella gestione dei nostri impianti, sia nella gestione di impianti privati, sia nelle convenzioni. La cosa positiva, per esempio, ho visto che prendete le università, il Politecnico si è preso una responsabilità importante, la Bocconi ha fatto il suo centro, insomma c'è molta attenzione. Ovviamente noi politici spesso orientiamo il nostro pensiero, non dico la nostra azione, in funzione di quello che riteniamo essere l'opinione pubblica. E l'opinione pubblica, ovviamente sono in sei anni, mi ricordo di tanti sondaggi, verifiche, tutte le volte che si parla di sport è radicalmente positiva. Le Olimpiadi a Milano non c'è mai stato dibattito se era una cosa buona o non buona, era assolutamente buona, così in generale allo sport, così in generale allargando un po' il discorso, per esempio sulla mobilità ciclistica, sulle piste ciclabili. Sì, qualcuno fa polemica, ma c'è ed è legittimo. Però guardate, i milanesi quando si parla di un certo stile di vita, di sport, sono tutti d'accordo. Quindi è il momento propizio per fare ancora di più, ma c'è stato un cambio di passo negli ultimi anni molto significativo.